Era una di quelle ragazze belle e seducenti, che nascono, come per un errore del destino, in una famiglia di impiegati. Era senza dote e senza speranze, e lasciò che la sposassero a un impiegatuccio del ministero della pubblica istruzione. Soffriva di continuo, sentendosi destinata a tutte le delicatezze, a tutti i lussi. Soffriva per la povertà del suo appartamento, per la miseria delle pareti, per le seggiole consumate, la bruttezza delle stoffe. Nel vedere la piccola bretone che le faceva ai servizi di casa, si destavano in lei desolati rimpianti, vaghi sogni. Pensava ad anticamere silenziose, ovattate da pareti orientali, illuminate da grandi torciere di bronzo, a due valletti in polpe che sonnecchiavano nelle grandi poltrone, intorpiditi dal caldo pesante del calorifero. Pensava a grandi sale rivestite di sete antiche, a mobili pregiati adorni di ninnoli preziosi, a salotti civettuoli profumati, fatti apposto per le conversazioni del pomeriggio con gli amici più intimi, gli uomini più noti e ricercati, coloro che tutte le donne invidiano, desiderano, vorrebbero per sé. Quando sedeva a desinare davanti alla tavola tonda, coperta dalla tovaglia dei tre giorni avanti, di fronte al marito, ella pensava a pranzi raffinati, a lucenti argenterie, ad arazzi, che popolano i muri di antichi personaggi e strani uccelli, in mezzo a foreste incantate. Pensava alle vivande squisite servite in meravigliosi piatti, alle galanterie sussurrate e ascoltate con uno sfingeo sorriso, mangiando la carne rosata di una trota o un'ala di pollastrella. Non aveva bei vestiti, non aveva gioielli, ed erano le sole cose che le piacessero, quelle per cui si sentiva nata. Avrebbe tanto desiderato piacere, essere invidiata, essere seducente, corteggiata. Aveva un'amica ricca, una compagna di convento, e non andava più a trovarla perché, dopo ogni visita, provava troppo dispiacere. Piangeva per giornate intere di rimpianto, di disperazione, di sconforto. Una sera, suo marito tornò a casa tutto trionfante, tenendo in mano una grande busta. Tieni, ecco una sorpresa per te. Il ministro della pubblica istruzione e la signora Ramponot hanno l'onore di invitare i signori Loisel alla serata che si svolgerà lunedì 18 gennaio nel palazzo del ministero. Che cosa vuoi che me ne faccia? Ma, tesoro, pensavo che ti avrebbe fatto piacere. Non andiamo mai in nessun posto, e questa è una magnifica occasione. Ho dovuto faticare molto per ottenere questo invito. Lo vorrebbero tutti, e tutti si danno da fare, e ce ne sono pochissimi per gli impiegati. Ci sarà tutta la società governativa. Che cosa vuoi che mi metta addosso per andare in un posto come quello? Beh, il vestito che ti metti per andare a teatro. Mi pare molto bello. Ma che hai? Che hai, tesoro? Ma nulla, soltanto che non ho vestiti, e alla festa non ci posso venire. Dai quell'invito a qualche tuo collega che abbia la moglie messa un po' meglio di me. Via, Matilde. Quanto verrebbe a costare un vestito decente, che ti potrebbe servire anche in altre occasioni, in qualcosa di semplice? Ma non saprei con esattezza, ma penso che potrei farcela con quattrocento franchi. E va bene, ti do quattrocento franchi, ma guarda di farti fare un bel vestito. S'avvicinava il giorno della festa, e la signora Loisel sembrava triste, inquieta, preoccupata. Eppure il vestito era pronto. Che hai, Matilde? Sono tre giorni che mi sembri un po' strana. Mi dispiace di non avere nemmeno un gioiello, una pietra, una cosa qualunque da mettermi addosso. Chissà come sembrerò misera. Quasi quasi preferirei non andare alla festa. Puoi metterti dei fiori freschi, e di questa stagione sono elegantissimi. E con dieci franchi ti puoi comprare due o tre rose magnifiche. No, 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 non c'è niente di più umiliante che apparir povere in mezzo alle donne ricche. Oh, quanto sei sciocca. Vai dalla tua amica, la signora Forestier, e fatti prestare un gioiello da lei. Siete abbastanza amiche perché tu lo possa fare. È vero, non ci avevo pensato. Il giorno dopo, Matilde andò dalla sua amica, e le raccontò in quale imbarazzo si trovasse. La signora Forestier andò verso l'armadio a specchio, ne trasse un cofanetto, e lo aprì. Matilde vide braccialetti splendidi, una collana di perle, una croce veneziana d'oro e pietre di mirabile fattura. Si provava i gioielli davanti allo specchio. Non sapeva decidersi a toglierseli, a rimetterli dentro. Ad un tratto, Matilde scoprì in una scatola di raso nero una collana di diamanti, magnifica. Sentì una voglia smodata a tumultuarle nel cuore. A prenderla, le tremavano le mani. Se la ganciò sopra il vestito accollato, è stette a rimirarsi, in estasi. Potresti prestarmela? Questa, questa soltanto. Ma sì, certo, prendi quello che preferisci. Oh, cara, sei un tesoro. Non so come ringraziarti. Venne la sera della festa. La signora Loiselle trionfò. Era la più bella di tutte. Elegante, graziosa, sorridente, fuor di sé dalla gioia. Tutti gli uomini la guardavano, chiedevano chi fosse, cercavano di esserle presentati. Tutti i segretari di gabinetto volero ballare il balser con lei. Anche il ministro la notò. Ballava, inebriata, con slancio, stordita dal piacere, senza pensare a nulla, nel trionfo della sua bellezza, nella gloria del successo, in una sorta di felicità formata dagli omaggi, dall'ammirazione, dai desideri, dalla sua vittoria, così completa e così cara al suo cuore di donna. Andò via alle quattro di mattina. Suo marito, da mezzanotte, stava dormendo in un salottino insieme ad altri tre signori, le cui mogli si divertivano moltissimo. Lui le buttò sulle spalle il soprabito che aveva portato, un modesto soprabito che per la sua povertà contrastava con l'eleganza del vestito da ballo. Matilde se ne accorse, e voleva scappare via per non essere vista dalle altre donne che si stringevano addosso le loro ricche pellicce. Il marito, nel timore che Matilde pigliasse un malanno, andò a cercare una carrozza. Ma a lei non gli diede retta, e scese rapidamente la scala. Per la strada non c'erano carrozze, e si misero a cercarne una chiamando i cucchieri. Andarono verso la senna, senza più speranze, tremando di freddo. Finalmente, sul lungo senna, trovarono una di quelle carrozzelle che, a Parigi, circolano soltanto di notte, come se si vergognassero di mostrare alla luce la loro miseria. Furono portati fino all'uscio di casa, in via dei martiri. Salirono tristemente le scale. Era finito, pensava lei, e lui pensava che alle dieci sarebbe dovuto essere al ministero. Matilde si levò il soprabito che le copriva le spalle davanti allo specchio, per potersi vedere ancora una volta, in tutto il suo splendore. La collana! Che c'è? Matilde? Ho perso la collana! La collana della signora Forestier! Cosa? Come? Ma non è possibile! Sei sicura che l'avevi quando siamo venuti via? Ma sì! L'avevo ancora nell'atrio del ministero! Ma se l'avessi persa per la strada, si sarebbe sentita cadere! Deve essere nella carrozza! Oh sì, può darsi! Hai visto che numero aveva? No! E tu? Oh, nemmeno io! Rifaccio il tragito che abbiamo percorso a piedi, per vedere se la ritrovo! Loiselle uscì. Lei rimase col vestito addosso, senza avere la forza di andare a letto, afflosciata su una sedia, col cervello vuoto. Loiselle tornò alle sette, senza aver trovato nulla. In capo a una settimana avevano perso qualunque speranza. Loiselle, che era invecchiato di almeno cinque anni, decise che avrebbero dovuto comprarne un'altra. Il giorno dopo, presero l'astuccio e andarono dal gioielliere, il cui nome era scritto nell'interno. Questi consultò i registri, ma disse che quella collana non l'avevano venduta loro. Soltanto l'astuccio era del negozio. Allora andarono da un gioielliere all'altro, cercando una collana uguale a quella perduta, cercando di ricordarsi tutti e due febbricitanti di dolore e d'angoscia. In un negozio trovarono una collana di diamanti che pareva identica a quella che cercavano. Valeva quarantamila franchi. Potevano darla per trentaseimila. Pregarono il gioielliere di non venderla per tre giorni. E misero come condizione che l'avrebbero ripresa indietro per trentaquattromila franchi, se quella perduta fosse stata ritrovata entro il mese di gennaio. Loiselle possedeva diciotto mila franchi che gli aveva lasciato suo padre. Il resto lo avrebbe preso in prestito. Andò a chiedere mille franchi da questo, cinquecento da quello, cinque Luigi qui, tre Luigi là. Firmò cambiali, prese impegni disastrosi. Ebbe a che fare con usurai e con ogni specie di strozzini. Compromise tutto il resto della sua vita. Rischiò la sua firma senza neanche sapere se avrebbe potuto farle onore. E, angosciato dal pensiero del futuro, della miseria nera che gli sarebbe caduta addosso, dalla prospettiva delle privazioni fisiche e delle torture morali, andò a comprare la collana nuova, posando sul banco del gioielliere i trentaseimila franchi. Quando la signora Loiselle riportò la collana alla signora Forestier, Costei le disse con tono seccato che avrebbe dovuto riportarla prima perché ne avrebbe potuto aver bisogno. Non aprì l'astuccio, come Matilde temeva. Se si fosse accorta dello scambio, che cosa avrebbe pensato? Che avrebbe detto? Poteva anche considerarla una ladra. La signora Loiselle conobbe l'orribile vita dei bisognosi. Vi si è dato subito, eroicamente. Era necessario pagare quel tremendo debito. Lo avrebbe pagato. Licenziarono la servetta, cambiarono casa. Andarono a stare in una soffitta. Matilde conobbe le più dure faccende, le più odiose fatiche della cucina. Rigovernò, rovinandosi le unghie rosa sui piatti unti, sui tegani. Il marito lavorava di sera. Teneva la contabilità di un negoziante e, spesso, di notte, faceva il copista a cinque soldi per pagina. Questa vita durò dieci anni. Dopo dieci anni avevano restituito tutto, compresi gli interessi degli strozzini e tutto l'insieme degli interessi composti. Matilde pareva una vecchia. Era diventata la donna forte, dura, robusta, delle famiglie povere. Spettinata, con la gonnella di traverso, le mani rosse, parlava a voce alta. Eppure, qualche volta, quando suo marito era in ufficio, si sedeva accanto alla finestra e pensava a quella serata, a quel ballo in cui era stata tanto bella e tanto festeggiata. Che sarebbe accaduto se non avesse perso la collana? Chi lo sa. Com'è strana la vita, è mutevole. Quanto poco ci vuole per perdersi e per salvarsi. Una domenica era andata ai campi Elisi per distrarsi un po' dalle faccende. Ad un tratto, scorse una signora che stava passeggiando con un fanciullo. Era la signora Forestier, sempre giovane, sempre bella, sempre attraente. Buongiorno, Giovanna. Ma, signora, non... Credo che vi siate sbagliata. No, sono Matilde Loisè. Oh, povera Matilde, come sei cambiata. Ah, sì, ho passato anni duri da quando non ci siamo più viste. E tanta miseria. Per colpa tua. Mia? Per colpa mia? Ti ricordi quella collana di diamanti che mi prestasti per andare alla festa del ministero? Sì. Ebbene? Ebbene, la persi. Ma come è possibile se me l'hai resa? Te ne ho comprata un altro uguale. Sono dieci anni che la stiamo pagando. E capisci che per noi non è stata una cosa facile. Non avevamo nulla. Ora però è finito. E sono proprio contenta. Mi dici che hai comprato una collana di diamanti per sostituire la mia? Ah, sì. Non te ne riaccorta, vero? Era proprio uguale. Oh, mia povera Matilde. La mia era falsa. Valeva tutt'al più 500 franchi. Abbiamo trasmesso La collana di Guy de Maupassant con gli attori Giorgio Gabrielli, Orlando Mezzabotta, Rosetta Salata, Maria Teresa Letizia. Tecnico del suono Riccardo Sada. Sonorizzatore Renzo Ceresa. Regia di Gianni Buscaglia. Regia di Gianni Buscaglia.